Appuntamento da non perdere quello di domenica 7 maggio presso la località Nani di San Colombano di Coglio. È in programma infatti la decima rassegna della Bruna Valtrumplina, riservata a Brune Alpine e Obidi, proprietà dell'azienda, da almeno cinque mesi. Saranno esposte anche razze caprine presenti in valle. La valutazione sarà a cura di un giudice dell'Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna. L'inizio della manifestazione verrà dato alle 8.30. Le premiazioni si svolgeranno invece a partire dalle 13.30. Per le 15.30 è prevista l'esibizione del gruppo folcloristico di Coglio e dei fisarmonicisti Giuliano Bianchi e Federico Crippa.